Alla fine è stato squalificato per due giornate. Jacopo Violani, giocatore del Riolo Terme Calcio, ormai protagonista involontario del web, con la sua esultanza dopo il gol contro Imola che ha mandato in frantumi il plexiglass della panchina. Il video sta girando in tutto il mondo. Il Guardian l'ha postato sul proprio sito, contro ormai quasi 5.500.000 contatti, ed ha portato Violani ad una notorietà tutt'inaspettata che questo weekend lo proietterà nel salotto di quelli che è il calcio, mentre su Facebook le pagine a lui dedicate contano quasi 10.000 sostenitori. E c'è già chi sogna una sfida contro Balotelli per vedere chi ha la testa più dura. È una cosa che non mi sarei mai aspettato di riscuotere così tanta notorietà e di visualizzazioni su YouTube. La cosa che mi rende contento è che ho riscontrato che la maggior parte delle persone hanno interpretato il gesto in maniera scherzosa, che era quello per cui, anche secondo me, doveva essere interattattato così, più che un gesto violento e anche sportivo, perché alla fine il mio gesto era, diciamo, fatto nell'euforia del gol. Ormai sei diventato il protagonista di internet di questi giorni. Amici e parenti che cosa ti dicono? Amici e parenti, diciamo, sono i primi che lo sono venuti a sapere e niente, a parte mia mamma che l'ha saputo la mattina dopo visto che non gli avevo ancora raccontato il fatto. Molti la prendono sul ridere, molti amici chiamavano e si mettevano a ridere talmente tante che non riuscivano nemmeno a parlare. Le prime chiamate sono state una risata continua, quindi molte risate, oppure del tipo ti rendi conto che hai fatto il giro del mondo, ti rendi conto, è incredibile, tipo delle cose così. Ma raccontaci un attimo invece i tuoi momenti subito dopo il gol che è avvenuto dopo un lungo periodo fuori dal campo per infortunio. E' un po' abbattuto, quindi erano i primi momenti che stavano bene fisicamente e al gol è stata, quindi, oltre alla gioia per i gol, che io ritengo che il segnare a tappi sia la cosa più bella che ci sia, quindi oltre alla gioia qui è stato anche uno sfogo, e poi anche la partita un po', era una partita sicuramente tesa, quindi ha inciso anche quello sicuramente. Il testo mi è sbalenato nella testa 3-4 secondi dopo che ho segnato. Quando ho rivolto lo sguardo alla panchina nella mia testa, ci ho detto adesso vado lì e do una testata alla panchina. Sicuramente non avrei mai immaginato di finire dall'altra parte della panchina, quindi non avrei mai immaginato di sfondare completamente la panchina con la testa. E invece quando hai visto il cartellino rosso dell'arbitro lì cosa hai pensato? Quando ho visto il cartellino rosso dell'arbitro ne ho preso atto e diciamo lì sicuramente ci sono rimasto male perché per prima cosa mancavano ancora 30 minuti alla fine della partita, quindi sicuramente lasciare i miei compagni in un uomo in meno non è stata una bella cosa, anche se comunque alla fine dopo la partita l'abbiamo vinta. e poi niente dopo, e poi quando sicuramente a mente è fredda mi dispiaceva se qualcuno poteva aver interpretato il gesto come violento o anche perché non era sicuramente il mio scopo, anzi il mio scopo era solo quello di esultare per il gol, quindi mi scuso con magari se qualche adulto o se qualche bambino ha interpretato male il gesto, ma il mio scopo di quel gesto era solo di esultare. Ho visto che però comunque i gruppi di Facebook che ormai ti sostengono come tiro, come il nuovo Tiribocchi, il nuovo Zidane, il nuovo Cassano, comunque ti sei iscritto e ti fa piacere. Sì sicuramente, sì perché come ho detto prima, molti l'hanno preso come un gesto simpatico, un gesto corrente, quindi sicuramente questo mi fa piacere. Il mio primo pensiero di quando torno a giocare è sicuramente quello di dare il tutto e per tutto per riuscire a fare il salto di categoria con il Riolo e niente, il mio primo pensiero è quello di fare un bel campionato e arrivare in alto possibile magari centrando la promozione con il Riolo. Grazie a tutti.